Buongiorno, amici e amiche di Volonvrite, siamo con la nostra sindaca, Chiara Bendino, al Parco delle Vallette per la protezione civile per città resilienti. Allora, volevamo solo sapere delle impressioni generali. Beh, impressione positiva anche, insomma, il coinvolgimento dei ragazzi e dei bimbi che si avvicinano alla protezione civile, a ciò che significa anche fare prevenzione e poi un grazie a chi l'ha reso possibile, quindi ai volontari e non solo. Bambini a scuola, appunto, l'educazione dei bambini verso questi temi è importante? Cosa ne pensa? È fondamentale, tant'è che devo dire che siamo anche molto contenti che si torni a fare educazione civica nelle scuole perché comunque bisogna, cioè sono nelle scuole, creiamo i bambini del futuro, quindi anche sulla prevenzione, passare ad esempio nella tenda del fumo a me ha creato, come dire, una sensazione di panico e è bene che i bimbi imparino a gestire le ansie in momenti critici, quindi è fondamentale. Perfetto, per il futuro, altri eventi come questo? Questo è dal 2005 che non si faceva, quindi abbiamo ripreso a farlo e l'idea in realtà è di continuare questa esperienza in giro per la città, nelle altre circostizioni, nei parchi, anche con delle due giorni e magari coinvolgere i ragazzi in delle forme di campi appunto più lunghi in modo tale che i bimbi e le bimbe si avvicinino appunto alla prevenzione, che cosa è la protezione civile. Grazie mille, ringraziamo. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.